Ciao a tutti e benvenuti in questo video nel quale realizzeremo questi sandaletti all'uncinetto è il nuovo modello per quest'estate 2018, io spero vi piacciano così come sono piaciute a me e che questo video abbia il successo che hanno avuto tutti i video delle scarpine che ho presentato finora li ho pensati in questa maniera, somiglianti a quelli che mettiamo noi tranquillamente d'estate ci sono di tutti i brand, tutti producono questi sandaletti, si assomigliano un po' tutti sono questi che ho fatto io per un'età di 6-9 mesi in quanto la lunghezza della suola qua è 11 cm circa 10,5-11 cm, vi ricordo che c'è anche lo schema per realizzare questi sandaletti sempre il solito discorso, io faccio tutto il tutorial qui video, quindi il video tutorial ci sarà tutto e non come vanno dicendo che io interrompo i tutorial a metà o comunque prima della fine per mandarvi a comprare lo schema, questa come ho detto altre volte è una cattiveria gratuita i video tutorial ci sono tutti, così come c'è tutto nello schema quindi è un file pdf, vi ho detto leggero, facilmente scaricabile, ce l'avete subito non appena pagate e l'avete subito a disposizione, non bisogna fare grandi manovre è molto semplice e intuitiva la cosa materiali che occorrono, allora, cotone, 25 grammi circa di cotone beige per fare la suola che sarebbe questa qua sotto, ok, più la parte rialzata 25 grammi di cotone invece di un altro colore, in questo caso io ho preso il panna per fare la tomaia cinturini e anche la suola, questa qui sotto bianca, che rappresenterebbe in qualche maniera la gomma, no? che c'è sotto i sandaletti e può essere, ecco, io in questo caso le ho realizzate i panna ma sono carini anche fucsia, verde acido per i bambini, per i maschietti, insomma, anche blu va bene e questo, poi l'uncinetto numero 2,5 segna maglie e volontà cioè due, però comunque io li perdo sempre quindi a volontà ago da lana e forbici inoltre ci vuole del filo metallizzato che può essere semplicemente così cioè su questi gomitoletti così, quelli di Natale in poche parole se ce li avete oppure il mulinet quello argentato, ok? e scusate, quello metallizzato che può essere argentato, dorato ce l'ho qua oppure di tanti altri colori tipo questo qui che è un bel celeste, no? oppure io qui ne ho altri di colori molto carini c'è questo, per esempio, il verde verde metallizzato anche questo mi piace molto ok? questo qui ad esempio quindi trovate questi filiati metallizzati se volete andare un pochino più sul tranquillo prendete oro e argento per fare la fibbietta qui l'argento non si vedeva molto quindi ho messo questo colore qui un po' oro oppure bronzo vedete voi e se invece volete fare qualcosa un attimo di più particolare magari la tomaia ecco con il panno e il bianco e personalizzate la fibbietta con un metallizzato colorato che anche quello è carino primo giro della suola avviamo 21 catenelle segniamo la ventunesima catenella così e poi a partire dalla seconda dall'uncinetto quindi da quella che era la ventesima andiamo a realizzare 20 scusate no 20 7 maglie basse quindi una due 3 e 7 se sentite un leggero russare di sottofondo è quello là e Charlie porta una botta di sonno incredibile e quindi sta dormendo di brutto va bene allora 7 maglie basse quindi dicevo nel primo giro poi facciamo 3 mezze maglie alte nelle 3 catenelle successive quindi qua ci facciamo la prima mezza maglia alta qua la seconda e poi la terza e adesso invece facciamo 9 maglie alte sulle 9 catenelle successive quindi 9 più 3 12 più 7 19 in tutto abbiamo fatto 19 maglie no tra maglie basse mezzo maglie alte maglie alte adesso abbiamo questa catenella qui che è l'ultima ovvero era la prima con la quale noi avevamo iniziato il lavoro e qua ci andiamo a fare 6 maglie alte tutte nello stesso punto quindi tutte 6 le maglie alte devono essere realizzate dentro questa catenella qui passiamo a lavorare sull'altro lato della catenella dove fino a un certo punto facciamo la cosa speculare cioè praticamente fino in fondo poi su questa catenella qui vediamo cosa dobbiamo andare a realizzare quindi adesso facciamo a partire da questa catenella qui 9 maglie alte inglobbiamo sotto anche il filo questo così lo andiamo a fermare senza bisogno di prendere l'ago e quindi lo mettiamo sotto queste maglie alte qui le 9 maglie alte poi facciamo le 3 mezze maglie alte questo non c'è più bisogno che lo prendiamo facciamo quindi 3 mezze maglie alte una due e tre e poi 7 maglie basse no perfetto qua c'è la maglia che avevamo segnato che era la 21esima togliamo il segna maglie e dentro questa maglia qua che era quella segnata andiamo a realizzarci 5 maglie basse non 6 come dall'altra parte erano 6 maglie alte ci facciamo 5 maglie basse quindi una due tre quattro e cinque poi mi raccomando in questa qui che si è nascosta un pochino in questa maglia qua sottostante questa che si è nascosta un po' e ci facciamo una maglia bassissima mi raccomando altrimenti andate lì altrimenti i conti non tornano ok quindi chiudiamo con la maglia bassissima e abbiamo realizzato in tutto 49 maglie tra maglie basse mezze maglie alte e maglie alte ok quindi primo giro 49 maglie secondo giro dobbiamo fare adesso lavorare sempre a maglie alte il secondo scusate e il terzo giro poi vedremo quindi per sostituire una maglia alta dobbiamo fare 3 catenelle quindi iniziamo facendo 3 catenelle e poi ne facciamo altre 18 quindi in tutto 19 perché questa è la prima più altre 18 maglie alte queste sono le 19 maglie alte adesso dobbiamo realizzare 6 aumenti quindi 12 maglie alte e questo lo facciamo facendo 2 maglie alte nella stessa maglia di base per 6 volte quindi 1 2 3 4 5 6 in queste 6 maglie di base noi ci andiamo a fare in ognuna l'aumento quindi 2 maglie alte in ciascuna di queste 6 maglie di base pertanto primo aumento è questo qui 1 poi quest'altro è il secondo aumento perché sono 2 maglie alte appunto nella stessa maglia di base e 6 non so se sentite la bagliare di cani che c'è qua intorno però vi assicuro ecco che non è Charlie perché lui non è diciamo così molesto è molto più silenzioso butterebbe giù che ne so le case visto che è piccolino però ha un bel vocione però tanto a me i bagli di cani non danno fastidio anzi fanno compagnia povere bestioline ok quindi non credo no disturbino poi qua più di tanto sul video anche perché sono a bagli di contentezza stanno giocando con i bimbi col pallone non è che soffrono quindi voglio dire li sentiamo volentieri allora dicevo che abbiamo fatto 6 aumenti e adesso da quest'altra parte la stessa cosa di qua ovvero 19 maglie alte no perché dobbiamo fare comunque che qui lavorare in maniera speculare quindi 19 maglie alte adesso abbiamo qua 5 maglie 1 2 3 4 5 su ognuna ci dobbiamo fare un aumento pertanto 5 aumenti quindi 10 maglie in tutto come abbiamo fatto prima 2 maglie alte nella stessa maglia di base per 5 volte prima avevamo fatto per 6 volte adesso per 5 e questa differenza dipende dalla chiusura del giro per far girare bene la suola e tutto ha dovuto mettere una maglia in meno altrimenti non era carino e sforzo un pochino con l'uncinetto perché è un cotone no non so se ve l'ho detto prima ecco Charlie comincia a darsi una stranita ok un cotone che si lavora con il 3 normalmente o 3 o addirittura anche 3,5 per alcuni lavori che devono venire più morbidi però scarpine sandaletti no sapete usiamo sempre mezzo numero addirittura un numero in meno quindi se andate la merciaia chiedete cotone che si lavora con il 3 o il 3,5 e poi lo lavorate se con il 3,5 con il 3 oppure con il 2,5 a seconda anche del tipo di lavorazione che avete adesso qua facciamo una maglia bassissima e chiudiamo il secondo giro abbiamo terminato il secondo giro con 60 maglie alte adesso dobbiamo fare il terzo giro dove facciamo sempre qua iniziamo con 19 maglie alte quindi 3 catenelle per sostituire la prima altre 18 maglie alte in tutto 19 19 maglie alte adesso invece qua facciamo un modulo quindi ripetiamo per 6 volte una maglia alta e un aumento quindi questa cosa per 6 volte qua ci mettiamo una maglia alta così e nella maglia successiva ci mettiamo l'aumento questo modulo ovvero eccolo qui una maglia alta e un aumento sopra due maglie sottostanti lo ripetiamo 6 volte 1 2 3 4 5 e 6 volte adesso di qua 19 maglie alte eccoci anche da quest'altra parte dobbiamo fare una maglia un aumento e ripeterlo però questo modulo per 5 volte no? e non per 6 volte quindi come di là una maglia che è questa una maglia alta e un aumento il modulo da ripetere andiamo a chiudere e alla fine del terzo giro noi abbiamo in tutto abbiamo realizzato 71 maglie alte così e abbiamo ottenuto la nostra suola la suola però diciamo questa che ci servirà poi per fare no è anche la parte rialzata quindi adesso potete procedere così o continuate con me e portiamo su anche questa porzione oppure va bene dovete realizzare un'altra con il beige poi ne dobbiamo fare altre due con il colore della tua maglia quindi in questo caso mio due panna quindi continuo con i giri della suola questa beige 4 5 e 6 dove andiamo a ripetere sempre 71 maglie basse però nel giro numero 4 queste 71 maglie basse devono essere lavorate in costa e quindi adesso vediamo come facciamo la prima la andiamo a sostituire con una maglia scusate con una catenella la prima maglia bassa in questo modo e poi lavoriamo solo la porzione posteriore della maglia sottostante quindi 71 maglie basse in costa chiudiamo chiudiamo quindi il quarto giro con una maglia bassissima su questa catenella che avevamo segnato la prima così poi facciamo ancora una catenella e andiamo maglie basse sopra le maglie basse sottostanti sia nel quinto che nel sesto giro questa volta prendendo entrambe le parti no della maglia quella lì sottostante in questo modo quindi lavorando normalmente l'ultima cosa dopo il sesto giro facciamo un'impuntura qui che ha due diciamo scopi una rifinitura un pochino più carina rispetto alla fine delle maglie basse qui intorno in più andare a sostenere un po' la suola questa parte soprattutto per chi ha la lavorazione un pochino morbida non stacchiamo il filo andiamo direttamente qua e facciamo tutte maglie bassissime non le tiriamo troppo questo no perché non è che dobbiamo stare a rimpicciolire ecco questa porzione andiamo semplicemente qui in ogni maglia e ci facciamo questa maglia bassissima camminiamo tranquillamente a maglie bassissime lateralmente ecco in modo che la rifinitura no venga più carina della porzione superiore di questa suola basta tagliare il filo e andarla a fermare no posteriormente internamente ovvero ok questa è la suola con questa impuntura no vedete nella precedente in quella che ho fatto prima non l'avevo realizzata e ho fermato il filo quindi praticamente ho dimenticato di farla vedete no che è diversa e questa qui rimane più tesa e quindi dà più l'effetto di scarpa della scarpa ok benissimo direi di terminare qua perché non ci corre dietro nessuno a me piace fare tutorial con calma mi agitano quelle cose dove bisogna stare a correre non so per quale motivo voglio essere insomma anche del tutto diciamo sicura che la maggior parte delle persone abbiano capito capiscano quindi quello che stiamo facendo tutto per bene pertanto tutto il tempo qua sotto per scrivere domande commenti tutto quello che volete va bene ciao e ci vediamo nel prossimo video ciao